Che stiamo facendo? Bracciali dell'amicizia. Questo è per Lou. Hai fatto un bracciale per Lou, e perché? Mi piace Lou. A te non lo so. Sì, invece. D'accordo, è vero, non mi piace Lou. Si tratta di una grave allerta meteo. La più grande tempesta degli ultimi anni nel Pacifico Nord Occidentale è prevista per la prima serata di oggi. Mamma! Sei tu? Tu? Sempre in giro per i campi? È qui, l'ha trovata. Non capisci? È addestrato, ed è un esperto di esplosivi. Non siamo alla sua altezza, Lou. Ci serve un aiuto da professionisti. Nessuno può darci una mano. Io sono tutto quello che hai. Ti do una mano se me lo permetti. Non mi serve una mano da te. Io mi sono presa a cura di lei. Ora insieme a lui chissà dove. Non sei un'eroina, sei una codarda. Dove credi di andare? A trovare mia figlia. Se mi rallenti, io non ti aspetto. No! 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 No!